All'interno delle iniziative del cartellone Abruzzo dal vivo 2018 organizzato dalla regione Abruzzo per riscoprire le bellezze del territorio dopo gli eventi sismici, si svolgerà l'evento musicale in alta montagna. Lo scopo è quello di festeggiare e mostrare la capabilità di una popolazione vitale e pronta a rimboccarsi le maniche per ribartare la sorte e per mostrare la sua capacità di trasformare la tragedia del terremoto in una grande opportunità. Rock Rods 2018, le strade del Rock Music Festival, invita tutti a partecipare alle iniziative organizzate nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 luglio dal fitto programma di eventi. Il 6 luglio alle ore 21 si esibiranno Radici nel cemento, un gruppo romano che presenta contaminazioni latine. Dub e Rock Study parlano di temi sociali e politica senza disdegnare la celebrazione del relax tipica del loro sound e della tradizione regg. Subito dopo, alle ore 22, il Sud Sound System, storica formazione salentina, tra i primi ad aver portato le sonorità regg e la dancehall giamaicana in Italia. Il dialetto salentino prestato ai testi di denuncia e di dibattito sociale. Il 7 luglio alle ore 21 invece a esibirsi Saranno Custo, un gruppo alternative rock di origine romana con grande esperienza che presenta il suo nuovo album. Il sarcasmo e non senso dei testi porta alla riflessione sociale, a volte celata dall'appartenenza grottesca. Al festival farà da sfondo la magnifica cornice paesaggistica di Piano Roseto Crogna Leto, gioiello montano che si trova all'interno della provincia di Teramo.